Come mi ascolti, Salvatore? Una belezza, chiaro, ma proprio, bello, chiaro? Chiaro, ma tu dove ti sei messo in particolare? Ti sei messo proprio nel punto che mi misi io l'altra volta? No, dove stavo risposta? La carrocola l'auto, mi spazio che sta a chiedere, non so. Ah, in poco però dove sta il monte carico? No, tranquillo. Facciamo un passaggio con l'altro. Eh. E niente...